Ok fenomeni, vai, bentornati su Dynasty Warrior Gundam Reborn Si parte con una nuova storia e con il gameplay numero 24 ragazzi E quindi si va, si va alla grande, vai mettiamo normale E ora ci saranno mezz'ora di parlato come sempre ma Oramai siamo abituati, vabbè Vai, ci siamo, vediamo un po' Posso giocare? No è ancora presto ma è giustamente Giustamente ragazzi è presto Eh 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 vai Brado Oggi Brado si cimenta in Gundam ragazzi perché ho voglia di giocare Anche perché è da finire la serie sarebbe ora Ok Vediamo se ce la possiamo fare Sì sì ho capito tutto certo Ho capito tutto la grande Vai siamo solo a un minuto e mezzo, un minuto e cinquanta Non vedo bene, qui c'è un po' distante ragazzi Ok 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 dai dai Posso giocare Posso giocare? Oh Metto subito start battle e quanto mi ricapita ragazzi Gondam Grazie a tutti. E' bel filmato ragazzi, un filmatino ci voleva. Grazie a tutti. Oh, si può giocare, non ci credevo. Che bello questo Gundam ragazzi, che bello. Eh si, veramente bello. Facciamo una mossa speciale, va, vediamo un po' come si comporta. Eh vabbè, si comporta benissimo direi. Ottimo robot, ottimo robot, vai, quanti ne distruggo, quanti ne distruggo. Eh vai, vai, vai là, calma, calma. Eh, ma dove vai? Ma dove vai? Se la banana non ce l'hai, dove va? Ma vieni qua, ma vieni qua. Ah, livello up, subito, subito ragazzi. Scaldiamo subito i motori. Vai che riscaldo subito i motori oggi ragazzi. Oggi sono sto fenomenale oggi. Sono pazzo totale. Va, ehi là, calma, calma. Dai che c'ho la faccia, dai che... No, dammi la lacca qui che non la metto sui capelli. Vabbè, dove vado? Vado di là? Non so. O di qua? Ah, di qua, di qua. Ecco qui, ecco qui. Vediamo un po' questo gameplay quanto dura. Ho fatto ragazzi, ho fatto... Ho fatto una mossa un po' azzardata in una posizione dove... Non ve la siete goduta, ma vabbè la rifarò, la rifarò. Tranquilli, tranquilli. Tranquilli che ve la rifaccio la mossa. Vedate in un attimo che si carica il tutto lì. Le batterie della dura scellano, così. Ecco, ho fatto questa mossa qui. Perfetto. Ora l'avete vista bene, non avete scuse per dire... Brado, non ce l'hai fatta vedere. Vieni qui, comandante, vieni. Ti butto al tappeto. Posso andare nello spazio, nell'universo? Qualche parte. Ok. È qui? È qui la zona, ragazzi. È qui. Eh, però... Un attimo, un attimo, un attimo. Ecco qua. Accontentiamo subito qui il ragazzo che spera di vincere, ma... Ma la vedo un po' dura per lui, comunque. Contento lui, contenti tutti. L'importante è che ci crede, che ha fiducia in lui. Eccomi. Eccomi qua, vai. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ahia, che succede qui? Che succede? Eh, ci succede un bordello, un attimo. Eccolo qua, vieni, vieni. Guardate, ragazzi, l'ho beccato con la super mossa. Bam, è già morto. Morto in due secondi. Ha, ha, ha. Perfetto, sì, sì. Hai ragione, hai ragione. Vince Brado, ricordalo. Ricordalo. Ok, lo vediamo qui. Ah, una mela verde, va bene. Pulisce anche i denti, quindi. Vabbè, ma qui che bordello è ora, oh. Che bordello è. Vabbè, adesso faccio piazza pulita di tutti, eh. Oh, vieni qua con la super mossa così. Eccoci qua. Ah, 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 ah. Ho fatto un bordello e ora me ne vado. Giustamente, giustamente. Guardate, Brado, com'è bravo. Guardatelo. Eh, beh, con la super mossa risolvi subito, eh. Con la mossa speciale non si sbaglia. Vai, di qua, di qua, di qua. Corri, corri, di qua, di qua, di qua. Scialla, vai. Ecco qua, facciamo un'altra bella mossa allo stile di Brado, no? Chi è? Chi c'è, sì? Chi c'è? Ah, è arrivato il rompicoglioni di turno. Ah, ah. Dai, che duri fuoco, ragazzo. Dai, che duri fuoco. Contento lui con... Eh, ah, calma, calma. Ok, contento lui, contenti tutti. Eh, sta a posto. Un attimo, un attimo. Questo cos'è? Vai, raccolgo tutto, ragazzi. Raccolgo tutto. Voglio conquistare anche quest'aria. Sono il conquistatore. Ok, vai e faccio subito, ragazzi. Faccio subito. Vai, grande. Eh, ma sono troppo bravo, ragazzi. Sono troppo bravo. Sono il re del Gundam. Sono il re del Gundam. Perfetto. E ora, noi due. Ah, noi due. Vieni qui, vieni. Vieni qua. Che ti strapple con. Vieni qua. Oh. Partiamo subito, leggeri. Oh. Ah, non l'ho colpito. Bene. Bene. Ah. Vabbè, tranquillo. Dalla seconda botta non ti salvi. Eccola qui. Una volta ti può andare bene, Ciccio. Una volta. Eccolo qua. È missione conclusa, ragazzi, credo. È missione conclusa. Tanto adesso ci saranno 20 minuti di filmaggi e di discorsi da fare. Ah, ho vinto. Ah, ho vinto, yeah. Per i miei fatti miei dopo. Ok. Dammi le carte che poi ci gioco a ruba mazzetto a qualcosa. Ok, ora partono i discorsi fenomenali di Gundam. Perfetto, vai, vai. Zastro è un'altra cosa. Zastro è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Non è un'altra cosa. Non è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Io sto capendo tutto, ragazzi. Poi vi faccio la traduzione, tranquilli. Ah, credevo che eravamo arrivati e invece no. Mi sembrava strano, vabbè. Yeah, yeah. Però sono belle queste scenette, ragazzi. Non possiamo dire nulla. Disegni veramente ben fatti. Ok, ci siamo. Non ci credevo più ormai. Ok, ragazzi. Allora il gameplay numero 24 di Dynasty Warrior Gundam Reborn si conclude qui. Un saluto al vostro Diablo, Dex. Ciao a tutti e buona giornata, ragazzi e ragazze. Ciao. Ciao a tutti e buona giornata. 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 Grazie.